vai vai che te primo vai vai che te primo R2, R2 oh incredibile io? beh si ma vedi te no? giusto per parlare di attualità per i nostri fans che non ci sono ma passiamo già a registrazione? certo ma l'ultimo nero che hanno pestato e ucciso no? quasi ucciso aveva rubato? ma ti dici ve lo... l'ultimo non riesco a respirare no no lui è famoso ormai no dell'arriere quando è stato? che è di successo? no 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 non l'ho nemmeno sentito no perché ho visto una grandissima vignetta insomma ho visto una vignetta in pratica no? dove la gente si inveiva contro poliziotti che lo arrestavano e faceva vedere che era andato nel negozio aveva sparato a tutti nel negozio e aveva rubato i sordi però lui era fuori che diceva no razzisti razzisti lo ammanettavano e lo portavano via no lo so ho visto solo la pagina grande vignetta secondo me cioè o è vera o è fatto uno dei cuckoo's clan via c'era via di mezzo non lo so non ha seguito non so cosa è successo quindi male perché il nostro pubblico vuole essere vuole che si segua il mondo no? allora vediamo un po' va tutto mi credi? va tutto? ci credo come porti merda? via vai andiamo si è pronto? vai e alla che tasse la pigiò un bolliodo? è esatto e poi quello per dare legnate dove sei? qual è? è un bel riorgio come per dare legnate? non era solo per acchiappar no mi ricordo che acchiappi si cosa era vedo lì miracolosamente non sono cascato forse cascora no e ora si mi ci hanno buttato io oh è sempre colpa di Verlatti ma è colpa tua ma guarda che figlia di ah è tutto cascato per colpa di Andrea hai visto? anche se uccetti in una no no oh dai oh dai ma come si fa a tirare giù quella affare? non vedo la risentire tirare le bestemme a micchiare con questo gioino lì ma mia oh che dici che smocola? eh oh ma ti buttano per terra dell'altri verrai oh non so se è perso di tranquillo opla dai 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 fa fanculo no no dai duro sei duro forte questa l'ho vista dai ce la puoi ancora fa dai dai credici però eh non mollare non mollare non mollare il mostro è dentro di te devi combattere il mostro via forse ce la fai anche attento che queste vanno in base al peso eh dove vai? mettevano tutti in base al peso quelli di prima? che vedi di prima? sì ah vabbè lo vuole fatto per vai ti agguanta lui eh ma mi è culo vai vai nooo vaffanculo ma come si fa a qualità? ma non lo so ti puoi alle due o alle due o qualcosa del genere cos'è questo delle palle? oh lo vedi? sì cos'è? cos'è bisogna fare? calzarle bene è vero capisci devi far go dove sei che ti aggardo al tasto? allora vediamo un po' cosa fanno loro? allora bisogna prendere le palle questo c'è una mamma arriva arriva qui ho fatto bene? sì perfetto ma è perfetto io vado a prendere quelle livellate allora perso oh corri oh corri che ce l'ho avuto nooo zitto mi sono qualifiato è una buia zitto mi sono qualifiato ah 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 c'è anche per me la presa il giallo no eh oh come fai sapendo ah l'ho visto l'almo viola ah vabbè di suono non devo cascare questo c'è capito blocca party bastardi però non ho ancora abito mi si fa agguantare aiuto aiuto ora si muove k ce l'ho fatta ce l'ho fatta sei sei oh zitto il fenomeno sono solo un fenomeno sono full mountain cascano le palle anche il filippelli c'è che ha giro le ho mandato l'invito io sto arrivando no al filippelli non a te dunque 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 dove vado di qua di qua di qua cascano le palle hai visto ti cascano le palle cascano le palle prendilo prendilo chi prendo la palla no 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 oi eccola capito però sono stato forte no 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 hai visto il numero ahia anche io me l'ho visto allora ahia che poi è un muso che piano è un'epoca è un'epoca è un'epoca eccolo fammi andare no no e che cazzo di già sei l'ultimo schiantato pronti vai aspetta te siamo tutti ready tra niente dove siete vi vedo con le mutande vi vedo vi vedo vai vai maledetto bastardo bene no riporti porca maiala lo spingere è spazio poi le schiaccia no sono scanzato e botta ma legnata ma ha dato della palla io spero voi ci voglio ci sono quasi porca puttana del maiale sì sì mi sono pantanato sono pantanato vadoci noi vadoci noi vai la voce più sexy mickey io allora chi seguo seguo andrea perché era un primo aspetta ora sentirete aspetta non è facile trovarvi allora vediamo miglielo vai miglielo stiamo tutti con te anche se andrea è più di dio da guarda quindi farebbe più audience ma il vice quello più avanti fa sempre più dai 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 che ce la fai grande trasverso dai no qui non bollare è qui non bollare non riesce porca puttana dopo se tu ci vuole diritto non lo so ma l'ho preso dopo il bravo è il dio vabbè andiamo su andrea siete lì lì vai andrea che qui va meglio siete duri forti fra tutti e due ma vai non lo per togliere ma perché non mi salta ma ci sei felici ma invece di scrivere gioia al guffio domanda che l'invito c'ero porca puttana è morto nessuno fa schifo quanto voi siete morti sì allora usciamo stavo finendo di impaginare una recensione non sono nessuno non sono nessuno come voi che evoluzione gioco oddio giochi il professionista gioco con noi mamma mia sono forte ma ci si può le acqua a rampi a qui ai a bottali è legnata bellissimo il salvataggio il salvataggio e legnato ha preso una palata nella testa adri siamo vicini dai eh dai belli siamo insieme qui a culo è ovviamente e da vabbè io sono rimasto sulla piattaforma comunque anch'io ho avuto solo culo oi 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 e mamma mia che culo ci ho avuto anche lì pianissimo sì 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 bastardi vai vai forse è stato trento vai dove mi hai lanciato ci sono venti sì ci sono ci sono dai dove sei dai per una volta ci si fa tutte e tre aspetta c'è semplicente c'è semplicente dai vai oh ti cura un mero slide no si è cascato corri 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 vai vai ecco vai contrario devi andare al contrario alla quale gira così la vedi arrivare porca miseria c'eri quasi sono cascato lì ci vuole la tattica no ma era passato ho trovato il muro ma li buttavi sotto ecco perché Ale si sente così affine a noi alla fine secondo alla fine a fine capito bello fatto proprio pensavo non si tirasse più su aia ragazzi io spero voi perché qui sono partito malissimo proprio in me speri bravo bravo se ci ha andato fuori niente no no ci sono ci sono no 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 sono rimasto via o l'ultima l'ultima dove ti trovo no c'hai attori no porca puttana tutti fuori come mai ti giochi con noi è così misera la tua vita sì la mia esistenza si almeno si va bene oggi troppo alto ma va bene vai ora accetto l'invito e si giova di ma siete duri ma armati che dici se fai due ai finali una volta alberto una volta io le ma che dici ma quante vittorie avete zero ma allora e ora arriva lui eh ti quanti c'hai no otto si ci giochi no eh otto otto vieni dè guarda testa di cazzo come nella realtà va otto vittorie sì ma ci giochi no non è male l'hai fatta l'impresione hai visto che tu eh il regalo ti pare faccia la recensione è pazzi no non è male non è male lo spera che lo mantengano con nuovi giochi altra roba ora in 27 dovrebbe esserci una presentazione un trailer qualcosa della della seconda stagione io voglio l'unica porta chiusa giuola sega se ci vanno proprio un cazzo che chiuse venite addosso foro geogaz sono già sono già primo è ma questo è culo e ti sto seguendo a rota poi non sono più primo adesso non è arrivata una volta anch'io o io davvero tre primi secondo si se mi tuffo bene secondo no terzo che altro è la oh yeah a diciannovesimo faccia ma iniziamo a meri io sono arrivato dici attesi fine se ci siamo tutti si se mi seguite per la quinta la testa a minchia di dovesse andiamo a seviglia iaiaiai queste sono ignoranti e io madonna e a questo mi ha detto un bel retto viene luciano sono il vero vero sono il moviti non sono primo come è possibile è vero e no io seguo adesso voglio vincere il dio mi sono incastrato sbagliato ho sbagliato versato che deve essere arrivato secondo dodicesimo e tredicesimo ande c'è fatta ha 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 fatto io no 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 ma fa culo lo perdiamo di tutto nel bello è quando sei sul traguardo e ti dice eliminato lo bisogna fare lui ha fatto questo è il memoria arancia mela dopo tenere da una e tu devi essere su quella giusta, diventa sempre più difficile non le ho già più mela ma io mi fido degli altri ok se gente si è buttata di sotto c'è qualche stupido che si è buttato di sotto finire l'arancia banana oh cazzo lontana anche a me no no perché sta di sotto la vera c'è quella a5 che è più difficile zitto 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 sì questo è facile rain man tutti non me lo rivedo tutti che siamo uguali perché? io sono rosso sì sì squadra sei squadra per fuori non ci trovo scusatevi che l'anelli gialli valgano 5 quindi se li vedete subito che fru forte preso ok uno io ho mai fermalo 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 scemo lì poi è nato nel muso l'anello eh me lo hanno anche fregato fregato è nato nel muso vedrai ma è dryato è giuana segale siete ultimi eh perché te ah te non ci sei già se sta facendo uno ma si è bagliato c'è anche picchiato siamo ultimi no ora no quello è nostro quello là è difficile che ci si faccia no c'è uno lì corri vai preso uh questo i ultimi sì però è tirata eh siamo tutti pari siamo pari dai dai si te l'ho preso vai bravo no ti ha dato o meno ci sono passato un mezzo ho visto figli apri il culo che vi sentite c'è una sega eh capisci nemmeno vanno passi nel tonno beh si apriva benissimo no ma vaffanculo ma ancora sono giocati avete ultimi eh l'avete del culo l'avete del culo sento nome è arrivato davanti sento sento un altro sento l'ho fatto l'ultimo giorno sento l'ho fatto io l'ultimo giorno no anche l'ho fatto l'ultimo giorno l'ho fatto un cazzo tutto il tempo eh però l'ultimi due l'ho preso per un pelo che sotto pressione capito che leader viene fatto 18 mi sa che ci sarà un altro round capito ti cae addosso via 18 è impossibile è veramente un casino posso solo sperare che siate veramente scarsi eh se se l'unico che si è una sola superaria eh lo so perché io ho la tecnica eh il problema è che è tutto sfatto sotto e quindi ora andrò giù di parecchi piani in una volta ma devi via che culo nooo 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 sono cascato nel buo stavo mi andando male sta presto ho morto? ho cito ho cito si sono andato nel buo proprio ho cito scusa ma guarda Michele ero lì ero lì ero lì dove la mi oh oh porca puttana ah fa il saltino è brutto gay cioè 1 a 1 hai ragione hai ragione hai ragione il sedicesimo eliminato ho vinto sono arrivato sono arrivato secondo testo l'unico che unete curandello sa vinto ci sarà un perché eh sì ma ho vinto oh a te sei curandello oh erano tutti eliminati quando sono stato eliminato io erano tutti eliminati sono stati vieni l'ultimo si caputana porto da casa la vittoria troppo facile questo è sulle palle eh guanculo perché mi pensano troiai ah che fiumana che pur diava tremenda perché ci sono sortito qualche maniera mamma mia no porca croia cazzi tua e me la sciguardi chi è morto? io via chi seguo? a scalare miguelo poi andrea e poi alessio mi sono già cascato allora meno male sono su michele è fatto apposta tra l'altro michele ha cambiato andrea ha cambiato la tutina eh perché l'ho venduta c'era l'ho vinta capito non dice niente creiamo tu casti che si va ci si va dè culo di merda oh van si ci si fa si fa chi è il lupo con la tutina gialla mia dovrebbero essere davanti a me abituati non mi ha capito questo è cascato male dai dai di capo male male ma non dovrei avere problemi ma io dicevo di michele qui mi interessa ma che cazzo ne manca la coda è una marea questa è lunga di gare perché è lunga o zitto di michele dov'è quell'altra famale perché perché dici che è lungo ma ci sa che di anni alla fine maledetto lui e portato non c'ho fretta tanto ad anche se dicevano di mare a questa soddisfazione al caputana è una passeggiata dai c'è ancora 16 di potere vediamo questa vuole il bufo che mi tira e dici no via non ti posso aspettare che rischi dai 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 tuffati no tuffati ma dove si casca il bufo ah ma si è passato ma sì sì ti guardo che guardo guardo andrea via voglio che mi sorprenda la tattica di inseguire la si è buona è buona ma è Addie che ha detto se si è sentito benissimo e si io le a te come te madre mora e cinti isatta no qualcuno dovrà accadere no è morto no tutti i vivi andrea è morto da casca ogni tanto bisogna dare una mano cactus rosse per qualcuno metta un anello ecco più nulla è fatto a non perdere il mio non è il mio c'è vivo quello arriva prima lui ma sbaglia me lo sento no no mi sono piantato questo mio amici allevato bravi più che sia stato un po vediamo come che le abbiamo poi che sto girando a cazzo di cani ho preso questo ha sbagliato molto bene accetto ancora di due questo è giallo è duro ma io vanno per guardarlo questo è duro è meglio guarda almeno figlio anche vesto figlio vesto figlio vesto guarda la casino ho preso però vado a prenderci quello che ho fatto meglio a cascata ti ho visto hai dai che sono forti ce la fai alle x e per sempre questo è buono che sei uscito al primo studio è uscito insieme a un mutilato a uno che il membro è rassonato il telefono è andato via a uno che strema con l'asperger che eravano di moda questo è quello giallo ho un transgender eh questo è quello giallo forse famose per questa dichiarazione sui transgender mi arresteremo dunque andiamo un po' qui andiamo a dire tutte e tre mamma mia uno 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 no vai bravo fai quello accanto bravo siamo lì ma che cazzo fai ti sei fatto confonde guarda di ucciderci 20 eh di piani dai su eh 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 vabbè allora io ora svuoto tutto ma ora svuota fai bene ora fai bene così fai in mezzo in mezzo io c'era uno saltava di uno in uno io li ho levati da sotto eh venite giù venite giù io ottima strategia no no ne ho fatto il filo il filotto ho fatto sei morto ne ho preso ho passato sei piani no non rinvice alessio guarda gente che muore non sono messo benissimo eh in realtà peccato che avevo fatto un'ottima tattica però vedo gente che muore di continuo quindi qualche speranza forse ma ora voglio vedere cosa fai guardalo guardalo io ho fatto un'erle che artista bello questo scopo va bene va bene ciao bene è finita bene basta facente di insieme no se era fatto dove manda troppo gente se poi domanda che culo sto sto rompendo tutto il primo colpo qua che culo del stra primo sono e sono indietro come lavora del maiale prima o poi mi devo andare anche il trofeo delle 20 vittorie oh che troia non ce la farò mai bello vedo le patatine eh chissà quanto costa 30 euro ah di non tuffarsi perché ti scivola sotto la pancia il pavimento e possibilmente anche non saltare perché atterri male e rotoli per il resto no è abbastanza visibile quello che devi fare no no ma l'hai detto te no questo ecco vedi questo si è tuffato è rotolato e tra un po' mi portava con sé nell'oblio guarda chi è che mi chi è che ma guarda se voi stacca no no io no volevo farlo prima ma c'era troppo casino di ho rinunciato ciao 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 andiamo uno e va giù oh via quando ci sei? si grande quando lo fate ai racing eh boh mamma mia cosa ho rischiato subito state larghi non che sia certezza infatti certezza non c'è però è meglio larghi che nel mezzo è meglio larghi che nel mezzo è meglio larghi che nel mezzo non devi stare nel mezzo vieni 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 no non devi stare nel mezzo vieni no ma hai ordinato poi ci sono finito forse di spiritoni adorato una buona ripreso in blu ma dovemmo esserci eh dovemmo esserci eh dovemmo esserci e fatta è fatta no ma via è fatta e non usato un peso ahah e parte un sion da fila affanculo sei rimasto solo te al finale io e lui no allora guarda Alberto è più divertente vederlo perde a me ne è sicuro come stai andando sto andandole e bisogna essere primo a me se vuole essere primo a me vai addio addio Matteo è qui qui è culo eh si si vai vai che sei primo vai vai che sei primo vai vai R2 R2 ZITTO DEEE SUCCAMELO CAZZO ma mia per il codore me l'hai proprio alzata in faccia la coppa eh che bello eravamo al photo fish che bellezza uno dei giorni più belli della mia vita allora a 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